Un'iniziativa che si svolge qui alla Villa Chieti, che fa parte dell'iniziativa nazionale WWF Urban Nature e abbiamo Filomena Ricci che è la delegata regionale del WWF. Buongiorno, oggi si festeggia in tutta Italia la natura in città, in Abruzzo siamo presenti in varie città, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano, Avezzano, L'Aquila, nel corso di tutto il fine settimana, si celebra la natura in città, perché nelle nostre città c'è tanta natura vicina a noi. Si stima che più della metà degli abitanti della popolazione mondiale vivano nelle città, città che purtroppo diventano sempre più cementificate e questo le rende vulnerabili rispetto per esempio ai cambiamenti climatici, ma certo inospitali per il benessere delle persone. Avere invece aree verdi, parchi cittadini fruibili addirittura diminuisce il rischio di mortalità e aumenta il benessere sia psicologico che fisico delle persone. Ecco, voi portate diversi standi, c'è il supporto e la presenza dei carabinieri forestali. Sì, questo evento è in collaborazione a livello nazionale con i carabinieri forestali che sono presenti insieme a noi in molte città e ci aiutano nelle attività di sensibilizzazione e di promozione di queste tematiche ai cittadini. Iniziative per coinvolgere i bambini, ma per i grandi anche della possibilità di acquistare delle felci. Le felci fanno parte di un progetto La Natura si fa cura, per cui acquistando una felce si contribuisce alla realizzazione di un'oasi verde all'interno degli ospedali pediatrici. La natura, anche proprio come cura vicina ai bambini che sono ricoverati, riesce in qualche modo a rendere il ricovero meno pesante, ma a favorire anche la ripresa e la salute. Quindi anche nel nostro piccolo, nelle città, nei nostri appartamenti, non dimentichiamo il verde, perché un posto per il verde si può sempre trovare. Si può sempre trovare, ospiterà il verde e anche tanti altri animali, piccoli insetti impollinatori che sono fondamentali per la nostra vita. Bisogna scegliere delle piante autoctone, cioè della nostra flora, e sicuramente sarà un piacere sia per gli occhi sia per la natura.